ciao a tutti da luca css ce l'avevamo lasciati proprio in questo punto con beon chusol che la ragazzina qua nostra jodie deve fare un bel docino sperando che nessuno dei tre zazzoni venga a vederci il culetto dov'è qua? perfetto qui vestiti? ah ecco ah 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 Buongiorno Alla fine il tipo è scappato via e indovinate un po' non si è fatto più vedere Ale diventano tutti tristi È ora di dormire È ora di dormire Ma che succede? Perché dobbiamo barricarci in casa? Resta nella tua stanza Giorgio E non uscire in nessun caso ricordi Quello che è successo era becora Non voglio che ti accada nulla Ma per l'amor di Dio poi Mi dici cosa succede? Vattene nella tua stanza Non puoi fare nulla La signora l'ha già portata A letto Perfetto Ogni tanto sto gioco qua Mi sembra di comandare Robocop Vediamo un robot La signora è stata un'altra La signora è stata un'altra La signora è stata un'altra Direi che il vento è piuttosto forte E quelle dune lì di sabbia stanno avanzando Verso la casa Vanno per l'altro un po' di sciogliere tutte le serie è un antico del genere poveretti perfetto, merda le gengive una bella tavola di legno se uno sta chiuso qua dentro mi sembra così strano che non posso fare niente ma allora ti sposti oppure no? che cacchia devo fare? sto prendendo tutte le trambate vabbè ma allora facci sotto non 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 Aide! Aide, aiutami! Ah, quindi sono... Questi sono anime buoni, sono spiriti buoni, ecco. Voglio la verità. Adesso voglio sapere la verità. E' Izov. Vuole il sangue. Non vintare sa nient'altro. Non possiamo fare nulla. Non puoi uccidere il mio spirito. Gli spiriti non abitano in questo mondo. Se è qui c'è un motivo. Ti ricordi, Ashki? Siamo amici, giusto? Adesso io infilo il pietro in la statua e salgo, ok? Devo riuscire a capire come vanno a muovere. Ehi, che ne dici, Ashki? Stiamo andando bene, eh? Il cavallo dovrà svelarmi il tuo segreto. Senti, io sto andando al pascolo a vedere le pecore. Ti va di venire? Certo! Andiamo a pascolare, anche noi. Jody, vai a pascolare. Posti, direi che da vedere sono fantastici, ma da abitarci, ahimè, ce ne è impazzire. Qui non c'è veramente nessuno. Qui non c'è nessuno. Senti, io so che non ho voglia di parlarne, ma devo sapere cosa è successo ieri notte. Tuo padre conosce lo spirito. Non è la prima volta che vieni, vero? L'inizio è qui da sempre. Viene di nord e ruba bene. Gli anziani credevano fosse... Una maledizione. Il prezzo da pagare per vivere in questa terra. E nonostante questo... Tuo padre non ha mai voluto... Andarsene via da qui. No. Vedi, per lui... Gli spiriti sono... Parte della terra. Come le rocce, la sabbia del deserto, qualcosa che non puoi cambiare, ci devi convivere. Adesso tocca a me farti qualche domanda. Che cos'è che ti porta qui in mezzo al deserto? Sembra che tu stia scappando da qualcosa. Probabilmente voglio solo dimenticare. Ricominciare da zero. Forse sto solo scappando da me stessa. Sei come noi. Anche tu hai tuoi segreti, vero Gianni? Jay, devo... Devo dirti una cosa. Io? Jay! Jay! Perché ne cresce? O se c'è? 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 Allora papà, al ranch non c'è più acqua. Problemi al pozzo. Darò un'occhiata tornata. Se vuoi ci posso andare io? Non credo che tu possa farci molto. Farò quello che posso. Dov'è il pozzo? È laggiù. C'è anche un mulino. Lo riconoscerai. Ok. Ci vediamo dopo al ranch. Perfetto. A dopo. A dopo. Andiamo a vedere il pozzo se riusciamo a fare qualcosa. Dai, Jodie. Avanti. Con questa flemma arriviamo fra due giorni. E qui ci vorrà l'amico. Bel lavoro, Aiden. La pompa funziona di nuovo. Ok. Senza Aiden qua. La visione è quella di, la solita, lo spirito. Andiamo a vedere. Grazie. 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 Visione, realtà, incubo. Oh, hm. Crown. Una freccia dice... Di là. Ok, direi che con questo video ci dobbiamo salutare, ci vediamo prossimamente, ripartendo sempre da qua, seguendo la freccia del Crown. Jody si sta ficcando in un bel casino, ci mancavano pure gli indiani. Un saluto a tutti da Luca CSS, ciao, ciao, ciao.